Buongiorno a tutti e benvenuti in questo speciale 500 iscritti Oggi ragazzi siamo qui su Minecraft perché vi voglio dire una cosa molto importante Allora la prima è che vi ringrazio per questo traguardo dei 500 iscritti Quindi vi ringrazio veramente di cuore perché siamo arrivati finalmente ieri sera a 500 iscritti Adesso siamo addirittura mi sembra a 501 adesso non mi ricordo Quindi vi ringrazio veramente di cuore E allora ragazzi mi è venuto in mente insieme ai ToonClan Che vi consiglio di andare a vedere il loro canale youtube e vi do il link in descrizione Di aprire un server su Minecraft Questo perché molti di voi mi hanno chiesto di giocare a Minecraft Sennò che io non è che posso creare per ogni iscritto un mondo Perché se no è come se ogni volta per ogni iscritto ti dovrei ripartire da zero E per me sinceramente ripartire da zero ogni volta c'è comunque una perdita di tempo sinceramente E quindi ho detto perché non creiamo un server Osto io E voi entrate nel server Giocate E diciamo giocate insieme a me Ora io e Exos ci siamo messi in creativa Perché stiamo preparando Tutto appunto lo spawn Perché vogliamo avere uno spawn carino Una belle con l'altra Perché non vi voglio far spawnare del bel nulla E poi mi raccomando regà le regole sono abbastanza semplici Non andate a griffare gli altri Non spaccate i blocchi dello spawn E non insultate gli altri giocatori Tutto qua c'è Le regole sono abbastanza basilari E niente ragazzi Cosa fate? Entrate in questo server Giocate Fate quello che volete fare in un normale Minecraft Soltanto che ci sono io che hosto E guardo cosa fate voi Così via Così gioco un po' con voi A pomeriggio E così via Quindi raga E spero che comunque l'idea vi sia piaciuta Perché molti di voi me l'hanno chiesto Non sapevo come fare E mi è venuta questa idea Quindi raga Comunque Spero che comunque il video vi sia piaciuto Vi ringrazio veramente di cuore per questo traguardo Spero che partecipate in molti E niente Ci vediamo domani con un prossimo video Bella Ciao